Da oltre 30 anni il ristorante Arcobaleno a Cava dei Tirreni significa qualità e convenienza. Gli intensi controlli antidroga ad opera degli agenti del commissariato di Cava dei Tirreni, nei giorni scorsi, hanno portato alla denuncia di un ragazzo e alla segnalazione di altre due persone alla prefettura, oltre che al sequestro di 40 grammi di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, nella serata di mercoledì 29 gennaio, i poliziotti in via 25 luglio hanno fermato un'autovettura con a bordo un uomo e una donna. Il cui conducente, alla vista della volante, ha tentato di eludere con una repentina manovra il senso di marcia per dileguarsi a forte velocità. Dalla successiva perquisizione personale e veicolare è emerso che l'uomo, a alle sue iniziali di 42 anni, era in possesso di alcune bustine in plastica trasparenti e sigillate, contenenti circa 30 grammi di marioana, tre trituratori e una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, provento dell'illecita attività di spaccio, che venivano sottoposti a sequestro. La donna, che era in sua compagnia invece, spontaneamente ha consegnato ai poliziotti alcuni grammi di marioana e hashish, che le erano stati ceduti dal 42enne, dichiarando di farne uso personale. L'uomo è indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre la giovane è stata segnalata in prefettura quale assuntrice, e la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. La stessa sorte è toccata anche ad un altro giovane metelliano di 26 anni, che gli agenti hanno identificato nei pressi della stazione ferroviaria di Cava dei Tirreni. Anche per lui, trovato in possesso di hashish, è scattata la segnalazione alla prefettura e il sequestro della droga.